dai facci fuori no ragazzi non ci scherzate io non so quanto ci sia di vero in questa storia ma è successa tanti anni fa e come vedete è rimasto tutto invariato qui come se fosse passato un mese al massimo se volete ve la racconto ma non ci scherzate su ok allora qui nel paese di vallebuia c'era una coppietta si doveva sposare erano fidanzati da quando andavano alle elementari lui marco vedeva solo lei era pazzo di lei lavorava giorno e notte per mettere via i soldi per la casa lei anna bellissima una bellissima ragazza era innamorata innamorata anche lei di lui chiaramente ma un pochino più più sbarazzina diciamo mentre lisa l'amica del cuore di anna era una vera tigre e alla fine si è fatta trascinare anche hanno cominciato a frequentare due ragazzi che erano qui in vacanza la cosa sarebbe finita presto almeno così così doveva andare ora per lisa infatti è stato così anno invece si è presa una cotta e così hanno continuato a vedersi lui veniva a trovarla anche dopo l'estate si dava un appuntamento proprio qui nel caprile ma d'inverno qui non ci viene nessuno ma qualcosa purtroppo andò storto ora non si sa come sia successo il paese piccolo forse qualcuno li avrà visti fatto sta che marco ha scoperto tutto non ci credeva non riusciva a credere che la sua anna lo tradiva con un altro è dovuto venire fino a quassù a spiare quello che succedeva e purtroppo ha avuto la conferma di tutto il martedì dopo marco è tornato su si è nascosto dietro l'antimo intorno si è messo ad aspettare accecato dal dolore aveva con sé una tannica di benzina quando sono arrivati loro si sono appartati nel caprile lui ha aspettato ancora un forse non aveva coraggio poi ha messo la tannica di benzina sul tetto ha lasciato che la benzina cadesse lungo l'uscio e per i due amanti non c'è stato più scappo a quel punto ha peccato il fuoco e li ha da quel giorno qui carimi è rimasto tutto uguale non è cambiata una virgola questo purtroppo non è tutto ora si dice che si dice che chi si apparta dentro il caprile sente e prova tutto quello che è successo qui non so se mi spiego scusa ma marco che fine ha fatto marco non l'hanno più trovato per quello che mi riguarda potrebbe essere anche qui intorno che ci spia ragazzi non ci scherzate ve ho detto io rischio il posto di lavoro io questa storia non ve l'ho assolutamente mai raccontata non dimenticatevela scordatevela ok ok ragazzi dai io direi che possiamo tornare indietro se no facciamo troppo tardi andiamo